Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi ma questo qua è un video molto più speciale del solito perché sarà un video vlog ragazzi l'ho sempre voluto fare infatti oggi sarà proprio il giorno speciale ragazzi oggi vi farò vedere un po' perché sono in vacanza, sono in Veneto e vi farò vedere il mare del Veneto che sarebbe l'Adriatico vi farò vedere perché vi farò vedere se iniziamo a vedere un po' dei granchi perché qua ci sono i granchi blu e quindi vediamo un po' se riusciamo a vederli solo che sarà un po' difficile ecco però se ci riusciamo sarà veramente molto divertente questo tipo farà 10 minuti credo che partiamo per andare io e la mia famiglia partiamo per andare al mare cioè quindi sarà tipo a 10 minuti da qua da casa mia quindi appena arriviamo vi farò vedere un po' dove sto e niente sì non so se ve lo ricordate ma vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere la campanellina per non perdervi nessun video perché ogni video che faccio ci metto sempre l'impegno che è la cosa speciale dei miei video quindi ragazzi iscrivetevi e vi aspetto nella prossima clip siamo appena arrivati per voi sono passati tipo un secondo invece per me sono passati più 20 minuti ragazzi allora ora siamo al parcheggio e adesso vi faccio vedere il mare sta precisamente di l'area se non si vede ragazzi però adesso dobbiamo arrivare e poi vi faccio vedere tutto ok ragazzi questa qua è la spiaggia si chiama bagno celeste è una spiaggia veramente molto carina poi vabbè là ci sono tutte le altre spiagge cioè altri camp per le spiagge questa qua è la nostra e adesso vediamo un attimo in quale posto ci mettono perché siamo in un... perché qua c'è un altro pagamento quindi vabbè e quindi questa poi se ce la facciamo andiamo a vedere un po' di pesci e di granchi proprio probabilmente dei granchi perché i pesci vabbè sono un po' difficili da vedere e quindi ragazzi a dopo come faccio ogni volta quando vado al mare cioè in ogni stabilimento ci sono sempre tipo questi specie queste specie di parco giochino piccolissimo e io ogni volta lo vado a provare se è tipo stabile allora inizio l'altalene vabbè sono di plastica però dai credo che sono abbastanza ecco stabili allora vediamo un po', vediamo un po', sembra che siano stabili questa qua che è un po' più grande vabbè ci può stare vediamo un po' questo qua si sono stabili dai allora andiamo a provare un attimo allora andiamo andiamo a provare un attimo lo scivolo che è tipo da sette anni che non ci vado cioè tipo da, allora andiamo a vedere un po' come e qua è stra piccolo ok vai no questa è via no che schifo vabbè 3, 2, 1 ragazzi funziona funziona e vabbè questo qui comunque c'è ragazzi come si chiama questo gioco, vabbè comunque lo conosco e sono tipo qualche volta, cioè io sono abbastanza scarso allora ragazzi adesso io direi di andare, avvicinarsi al nostro ombrellone e andare a vedere un po' il mare com'è e che cosa ci troviamo dentro perché poi, poi verso tipo il pomeriggio di là, di là, di là dove ci sono degli scogli ci sono pure dei ci sta una secca cioè quindi una specie tipo ci sta una specie di isoletta ragazzi dove aspettate che giro la telecamera che se no dove ci sono di una specie di isoletta di sabbia in mezzo al mare dove dove ci si può giocare a calcio ci si può fare il bagno e là l'acqua è veramente caldissima quindi dopo se ce la facciamo me la faccio vedere e andiamo a farci un bel bagno nell'acqua calda quindi ragazzi ci vediamo dopo ok ragazzi allora adesso mi sto avviando il nostro ombrellone siamo in prima fila ragazzi adesso mi devo ricordare un po' perché tanto in questo ombrellone ci siamo già finiti a quelle volte ragazzi quindi dovrebbe essere qua vicino allora se sentite un cascino nel microfono è perché c'è stato un vento pazzesco quindi allora vediamo un attimo se lo vediamo allora aspetta eh allora aspettate dovrebbe essere questo questo qua ragazzi cosa dovrebbe essere il nostro ombrellone vedete sì ok eccoci qua perfetto ci abbiamo fatta allora vedete che ci sistemiamo adesso per un attimo 5 minuti che vedo la mia famiglia ci andiamo a fare un bel bagnetto raga credo che mi sa che oggi la secca non so se ci sta quindi semmai in questi giorni cioè credo che oggi non ci sta quindi in questi giorni vi farò uno shorts e ve lo farò vedere però adesso andiamo a vedere una cioè tipo fra qualche minuto adesso farò un'altra clip vi farò vedere un attimo il mare vi farò vedere il mare e vediamo un po' se vediamo dei dei granchi allora ragazzi c'è un problemino che ci sta un vento pazzesco quindi tipo si sentirà un casino nel nell'audio quindi adesso vi dico subito che cosa stiamo andando a fare allora adesso vai qua ci sta il mare quindi che è un po' mostro quindi non so se ci sono delle se ci sono delle di granchi però vediamo se tipo ne troviamo i morti i granchi morti che magari non so come sono morti o stanno uccisi vabbè comunque allora qua ci sta un vento che non sapete quanto sia forte allora innanzitutto vabbè qua ci sono solo tutte alghe aspetta vi faccio vedere qua ci sono solo alghe quindi non credo che mi sia molto da vedere dobbiamo vedere sempre in basso ragazzi perché se si vede qualcosa potrebbe essere un buon segno quindi allora vabbè qua non si vede molto allora adesso io mi sto dirigendo verso il posto dove ci dovrebbe essere la secca però solo che visto che io sto facendo come un cretino sto facendo il video di mattina non ci sta la secca quindi vorrei farlo di pomeriggio solo che non so se oggi ci sta la la secca quindi se ci sta questo pomeriggio farò uno short dove vi farò vedere un attimo come ho detto nella clip scorsa allora io qua non vedo un emerito niente quindi non so se vedremo qualcosa ragazzi perché non credo che ci sia qualcosa adesso vediamo un po' se vi giro un po' la telecamera vediamo un po' se vedete qualcosa ma non credo proprio che ci sono tutte le cose ma non so se ci sono queste cose cioè allora il problema che io ho fatto un casino che ragazzi non mi siamo portato il microfono quindi io adesso sono senza il microfono e l'audio farà schifo quindi ci sarà un bel casino nell'audio quindi allora adesso vi giuro la telecamera vediamo un po' se riusciamo a vedere qualche cavolo di granchio perché non ci dovrebbero essere però solo che credo che dovremo andare a vedere se stanno sui scogli però solo che sono a piedi nudi quindi non credo che vedremo qualcosa perché non si può andare così quindi vabbè allora la la secca dovrebbe essere la questo che non ci sta perché è di mattina quindi purtroppo non si vede un bel niente quindi ragazzi credo che non poi vi faccio vedere pure una bella cosa che di qua vedete quello là non è mare questo qua è il Po perché io ho la casa proprio sul delta del Po ragazzi poi vabbè là c'è stato il porto quindi non è una bella cosa da vedere quindi lascio tutte le barri tutto quindi ragazzi adesso io ritorno qua l'ho fatto pure il fuoco infatti l'hanno fatto pure ieri sera l'hanno fatto non credo che ci siano i cranchi ora perché semmai io lo vorrei vedere uno va bene anche se è morto perché tanto lo lascio vedere perché qua non so se lo vede ma è infestato da inglese veramente da un granchio quindi vediamo se ci sono delle kele o qualcosa ragazzi andate aspetta facciamo una cosa ecco ci sta una parte di un granchio ci sta ecco ci sta una parte di un granchio aspettate eccola questo qua è una parte di un granchio vedete cosa fate sono gli occhi è tipo è una corazza del granchio vedete com'è poi vabbè qua c'è stata la bocca c'è stato tutto lo schifo poi purtroppo mi sa che questo qua è finito molto male ci dovrebbero essere pure tutte le kele ma questo qua è solo un pezzo quindi oddio qua tutta l'acqua madonna quindi ragazzi siamo riuscite a vedere un granchio morto adesso vediamo un altro se riusciamo a vedere qualcos'altro perché guardate che abbiamo visto pure ah il mare no siamo riuscite a vedere pure un pezzo di granchio eccolo un altro eccolo qua un altro un altro pezzo di granchio cioè oddio è sempre lo stesso pezzo di granchio che abbiamo visto prima però è un altro granchio diciamo di qua e quindi ragazzi ormai oggi purtroppo siamo riusciti a vedere solo questo però se arriviamo a 10 like sotto questo video ci sarà la seconda parte di questo video ragazzi quindi arriviamo a 10 like perché sarà veramente un video ancora più bello di questo senza il vento che rovina tutto il video e ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mettete un like e ci vedete nel canale per non perdere questo video e noi ci vediamo in un prossimo video ciao